Torre Eiffel, Louvre, Opera, lei crede di aver veduto Parigi? Ma non si è, vi sono altri monumenti e lei non li può trascurare. Questo per esempio, Mestanguet, l'intramontabile. Ma non l'intrere, non l'intrere, bulle le Wilhelm, dunque si è già trasparente che nuove la Notte. Lo che vuole un bambino di zero, non l'intrere, non l'intrere! Grazie! Grazie a tutti.